Ieri ci eravamo lasciati con questo disegno, giusto? Dove abbiamo detto che iniziamo ad affrontare la modellazione a partire dagli aspetti funzionali. Gli aspetti funzionali li abbiamo cominciati a definire, anche se in modo un pochino ancora intuitivo, come le cose che il sistema fa, cioè le funzioni che il sistema realizza, implementa, senza ancora considerare come concretamente le realizza. E abbiamo cominciato a ragionare sul fatto che ci fosse nella descrizione funzionale di un sistema una compenetrazione almeno di tre punti di vista. Il primo, che è quello di cui cominciamo a occuparci oggi, è un punto di vista statico, cioè quali sono i concetti e i dati su cui il sistema lavora. È una cosa, se vogliamo, simile, ma qui lavoreremo a livello un pochino più astratto, di quanto facevate nel corso di base di dati, quando facevate il modello d'entità relazioni. Dove là però l'obiettivo era definire, attraverso dei passaggi, la struttura di una base dati relazionale. Qui abbiamo un'ambizione un pochino più alta, quella di definire quali sono le tipologie di informazioni, e poi quindi anche di dati, e in ultima analisi ovviamente anche di tabelle in un DB, dove dovranno finire questi dati, ma soprattutto quali sono le informazioni che il sistema dovrà gestire, anche un po' indipendentemente da come queste verranno memorizzate. Questa è una vista normalmente statica, nel senso che un sistema informativo lavora su certi dati, e quelli sono, e cambiano molto raramente, per carità i valori cambiano di continuo, ma i tipi di dato che elaboro tendenzialmente rimangono abbastanza stabili nel tempo. Posso aggiungere qualche cosa man mano che il sistema viene esteso con nuove funzionalità. E poi, subito dopo, ma ce ne occuperemo tra due settimane, è una vista dinamica di processo. Cioè, su questi dati, che cosa ci faccio? Faccio un esempio molto semplice, pensate a un'anagrafica, dati anagrafici di persone, nome, cognome, luogo di nascita, cose di questo genere. Allora, noi possiamo descrivere facilmente i dati su cui vogliamo rappresentare, l'informazione anagrafica di una persona è fatta di diversi dati, che potrebbero essere alcuni semplici, tipo il nome, il cognome, che sono delle stringhe di testo, altri più articolati, tipo, che ne so, la città di residenza, che non è una stringa qualunque, ma deve essere una città esistente, quindi è collegata ad un insieme di città possibili, e questo collegamento, tra l'altro, varia nel tempo. E quindi ci sarà probabilmente bisogno di memorizzare una successione di città in cui sono andato a risiedere, ad esempio. Qui sto descrivendo dei dati. Non sto ancora dicendo che cosa ci farò con questi dati. Cioè, questa anagrafica la faccio per fare, che ne so, il programma per il software per l'anagrafica del comune tra le itali, da vendere, oppure la faccio per gestire, che ne so, la mia rubrica di indirizzi personali, in cui, alla fine, i dati che mi servono sono dello stesso tipo. Le due cose, ovviamente, non sono totalmente indipendenti l'una dall'altra. Nel senso che avrò bisogno di rappresentare certe informazioni se dovrò gestire certi processi. E viceversa, potrò fare un processo oppure no, quindi un tipo di elaborazione oppure no, a seconda che io abbia o non abbia i dati. Quindi sono collegato alle due cose. Ma sono due punti di vista abbastanza diversi. Ecco, quello che si dice di solito è che i dati sopravvivono, o vivono molto più a lungo dei processi, o ancora di più delle procedure che li elaborano. Non è improbabile trovare dei sistemi informativi che siano magari stati rifatti tre, quattro volte, ma i dati su cui lavorano sono ancora quelli di 40 anni fa, o anche nella struttura principale. perché le procedure cambiano, ma le informazioni su cui si lavora tendono a crescere, ma quelle che già c'erano rimangono. È molto più importante, quindi, pensare bene, ragionare bene sul modello dei dati, che noi chiameremo tra un attimo modello concettuale di un sistema informativo, perché è quello che ha la vita più lunga. Se lo sbagli all'inizio, hai da soffrire per un numero di anni molto maggiore. Mentre invece i processi, le procedure, cambiano di anno in anno, ti cambia la normativa, cambia la prassi, viene fuori l'anagrafe nazionale, e quindi cambia il modo di lavorare. E questo è in continua revisione, la parte, diciamo così, operativa di processo, normalmente. Continua, magari no, magari non tutti i giorni, ma tutti gli anni, sì, ogni due o tre anni, con un ciclo, ha un ciclo di vita molto più rapido, vita e morte, e obsolescenza, i processi hanno un ciclo di vita molto più rapido che non i dati. Allora, senza perderci in troppe discussioni, che magari potremmo fare se risparmieremo tempo, io entrerai subito ad analizzare, a vedere insieme lo strumento di modellazione che settimana prossima useremo in laboratorio, e con cui cominceremo, diciamo così, ad esercitarci, per questa che noi chiamiamo modelli o modellazione concettuale. Concettuale significa che noi cerchiamo di modellare, descrivere in modo preciso, non a parole, non in modo vago, questo è un modello per noi, una descrizione precisa di un fenomeno, precisa da un certo punto di vista. Il punto di vista che adottiamo adesso è quello dei concetti. Cioè, quali sono i concetti, le informazioni potremmo tradurlo, ma anche più ampio, i concetti su cui il sistema informativo lavora. e quindi quali sono le informazioni e le relazioni, le dipendenze tra le informazioni. Noi, nel particolare, lavoreremo, come avevo già accennato ieri brevemente, con dei formalismi che sono presi, ripresi, dallo standard UML che è uno standard internazionale che definisce una serie di notazioni, di rappresentazioni, di diagrammi, alcune rappresentazioni testuali, formali, come linguaggi di programmazione, altre grafiche. UML è stato il punto di arrivo di un percorso molto lungo fatto da chi si occupa di ingegneria del software. la necessità di rappresentare, modellare, specificare sistemi esiste da sempre e di fatto le varie scuole avevano sviluppato modi diversi, convenzioni diverse per rappresentare la stessa cosa e il che portava un po' a incongruenze o incomprensioni perché la stessa cosa, stesso disegnino lo facevi in un modo diverso secondo che avessi studiato da una parte o dall'altra. Per fortuna, a un certo punto tutti questi ricercatori ingegneri del software sono uniti in un consorzio che ha poi alla fine partorito questo UML che è una serie di diagrammi molto ampi di cui noi non useremo tutti con una semantica ben definita. Cioè, quando disegni quello vuol dire questo. È una sorta di linguaggio di programmazione visuale. Non proprio di programmazione perché non è eseguibile diciamo un linguaggio di descrizione o di modellazione visuale. UML infatti sta per Unified Modeling Language. È un linguaggio che seppur visuale grafico è sempre un linguaggio e quindi sottostare le regole se una cosa è messa dentro un rettangolo non la posso mettere dentro un rombo o dentro un ovale perché ha un significato diverso è un linguaggio con delle regole. Modeling di modellazione quindi il cui scopo è modellare non è scrivere programmi eseguibili Unified perché ha messo insieme un po' tutti. Quindi questo è lo standard diciamo così universalmente adottato. All'interno di questo standard UML mamma mia questa cazzo la cicola ad ogni passo ci sono vari diagrammi che noi useremo in particolare per quanto riguarda la parte di modellazione concettuale quindi rappresentare le informazioni gestite dal sistema useremo quello che si chiama diagramma delle classi UML diagramma delle classi qui UML usa questo linguaggio classi che è molto vicino a quello dei linguaggi di programmazione ma in realtà noi lo possiamo tradurre come concetti che è molto simile vedremo in termini di nozioni ai diagrammi entità relazioni appunto che facevate nel corso di base di dati e sono un pochino più flessibili diagrammi UML delle classi perché lavorano a un livello concettuale più alto e non sono legati a qualche cosa che debba poter essere rappresentabile come tabelle SQL quindi partiremo da qua oggi poi quando parleremo di processi quindi la sequenza delle operazioni che devono essere fatte per portare per svolgere compiere alcune elaborazioni sui dati useremo quelli che in UML si chiamano diagrammi delle attività activity diagram dove i singoli file i singoli step i singoli passaggi che compongono un processo vengono chiamati appunto attività e gli activity diagram ci danno un linguaggio anche lì visuale per dirci per poter esprimere quali sono le interdipendenze tra questi tra queste diverse singole attività e poi più avanti quando parleremo di interazione con l'utente useremo un altro formalismo che è sempre dell'UML definito dei casi d'uso quindi parleremo di diagramma di casi d'uso use case diagram introdurremo queste cose poco per volta il fatto che siano tutte rappresentazioni diverse ma che facciano tutte capo siano tutte comprese dentro l'unica definizione che è quella dell'UML e ci dà un vantaggio nel senso che poi anche a livello di editor grafico queste cose poi si richiamano null'altra se tu hai definito un concetto a livello del modello concettuale lo puoi richiamare a livello diagramma delle attività o delle sequenze cose di questo genere quindi ci danno come accennavamo già ieri tanti punti di vista diversi ma coerenti sullo stesso oggetto vabbè questo è quello che abbiamo appena detto non invece andremo a toccare gli altri diagrammi che sono quindi la sequenza dei diagrammi di stato che invece vengono usati di più nelle fasi di progettazione successive quindi qua scusate ma ripete quanto avevamo raccontato a parole allora diagrammi delle classi quindi entriamo sul piano più operativo allora il diagrammi delle classi è uno strumento è un linguaggio che mi aiuta a realizzare la fase di modellazione concettuale cioè la costruzione di un modello il più possibile e fedele dei concetti su cui lavora il sistema e ovviamente per farlo devo avere in qualche modo compreso studiato analizzato quelli che sono effettivamente i requisiti del sistema cosa questo sistema deve fare se uno mi ferma nel corridoio e mi dice ma senti ma facciamo un sistema informativo per gestire il traffico della città ah sì bello figo grande però detto così non mi dice ancora nulla bisogna sedersi insieme ragionare su che cosa va rappresentato allora il traffico della città mi serviranno gli automobili da rappresentare forse sì le strade i semafori sì no i percorsi la decide dipende cosa vogliamo fare perché da una frase detta così in un corridoio non si capisce nulla e molto spesso nel ragionare su queste cose si ovviamente si lavora per approssimazioni successive e saltano fuori via via dei concetti nuovi e si cerca di formalizzare il meglio possibile i concetti che già si conoscono magari si scopre che due cose diverse in realtà non sono altro che due varianti dello stesso concetto quindi tanto vale mettere il fattore comune quindi questa diagramma delle classi è il punto di arrivo di un processo nel quale si cerca di ragionare insieme a chi possiede i requisiti a chi conosce cosa va fatto che va opportunamente intervistato diciamo o compreso o analizzato e si va a fissare su carta su un diagramma quelli che sono i punti principali questo si parla di requirement elicitation cioè tirare fuori i requisiti sarebbe troppo bello se uno arrivasse e ti dicesse mi serve una cosa che è fatta esattamente così 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 ti dà già la specifica bene il giorno dopo comincio a farla costruirla molto spesso chi ha in mente un'esigenza ce l'ha è in grado di esprimere ragionarla e vederla nel suo dominio applicativo chi si occupa di serra pensa ai fiori chi si occupa di traffico pensa alle auto e hanno tutto un loro linguaggio tutto un loro modo di pensare e noi dobbiamo riuscire a estrarre imparando un pochino del dominio e parlando con le persone estrarre quelli che sono i requisiti fondamentali i concetti fondamentali su cui lavorare e dobbiamo fare lo sforzo di non farci influenzare troppo da quello che diciamo il committente ha in mente o vuole realizzare vi faccio un esempio di stamattina aiutare a fare un lavoro di questo genere di analisi insieme a un'azienda un ente pubblico che hanno difficoltà a parlarci e siamo andati avanti un'ora perché di fatto da un lato chi sviluppava il sistema stava dicendo ma il sistema deve gestire dei servizi erogati alla famiglia non vi sto a dire di più perché tanto andiamo a complicar le cose e allora tu questi servizi li associa alle singole persone poi queste persone tanto sono raggruppate in un nucleo familiare e gli altri dicevano ma no noi vogliamo che il servizio sia erogato alla famiglia non al singolo e che tu dici ma chi se frega cambia poco cambia poco visto così però tu dici però tu dici che poi la persona nasce muore si sposa divorzia si separa si risposa allora il concetto di famiglia è un concetto dinamico nel tempo questi servizi dove vanno e si era partiti da come spesso succede da due posizioni opposte io la vedo così io la vedo cos'ha perché io che ero con il servizio si parla di servizi sociali vedo un nucleo a cui devo offrire certe cose perché sono in difficoltà poi se sono poveri sono poveri tutti c'è la famiglia in cui uno è milionario la famiglia non è povera anche se magari il figlio di 20 anni non lavora quindi ragionano in questo senso ma poi gli interventi sono fatti sulla persona ecco alla fine per farvela breve cercando di fare questa analisi dei requisiti cerchiamo di capire che cosa vogliamo alla fine la conclusione era che i servizi effettivamente sono allogati alla persona ma chi li deve valutare derogare ha la necessità di vedere tutto insieme tutte le informazioni sul nucleo familiare allora abbiamo scisso quello che è la rappresentazione dell'informazione da quella che potrà essere più avanti ma ci pensiamo in un altro momento la visualizzazione le schermate tu hai l'utente del sistema lui pensa che cosa vuole vedere a video ok ma quello che vuole vedere a video non necessariamente è paro paro quello che tu metti nel tuo modello dati anzi il modello dati deve avere delle caratteristiche di robustezza di coerenza interna che magari le videate danno dei dati riassuntivi aggregati sommati eccetera che non corrispondono per nulla ai dati diretti sono elaborati ok quindi lo sforzo che dobbiamo fare è questo capire i requisiti e interpretarli in modo da arrivare alla natura all'osso all'osso della rappresentazione quindi noi dobbiamo di fatto nella pratica risolvere tre quiz il primo quiz è quali sono in un determinato sistema che vogliamo modellare perché lo vorremmo costruire quali sono i concetti principali e cerchiamo di mantenerci sul piano il più possibile astratto concettuale sgombrando il campo da quello che gli utenti hanno in mente o qual è la loro esperienza bisogna interpretarla e astrarla cos'è un concetto cosa invece è un dettaglio quali sono i concetti più importanti li definiamo facciamo una lista potrei dire un glossario sono questi dieci gli do un nome li battezzo e li descrivo e scrivo a fianco di ciascuno che cosa intendo con quel nome questa tra l'altro è una fata abbastanza critica perché poi per dare un nome a un concetto io userò una parola italiana e devo fare in modo che chi mi ascolta non associ a quella parola il significato da dizionario di quel termine ma il significato che gli vogliamo dare noi in quel contesto poi il concetto è un nome il nome che per noi rappresenta qualche cosa va descritto definendo quali sono le caratteristiche o i dati associati o la rappresentazione di quel concetto se io ho capito che nel mio sistema dovrebbe esserci un concetto persona poi mi chiedo ok come la descrivo una persona attraverso quali attributi attraverso quali variabili quali dati la descrivo sulla base dell'altezza dell'età del colore dei capelli o sulla base del nome cognome e data di nascita e luogo di residenza sempre una persona è ovviamente le due descrizioni le le applicherò magari a campi diversi da un lato voglio fare un anagrafe da un altro voglio fare un sito di incontri dove non me ne frega niente del luogo di residenza non sono più interessanti dei attributi magari fisici sono due concetti diversi che casualmente abbiamo chiamato entrambi persone ma dobbiamo poi spiegarci quindi vanno poi analizzati e dettagliati e poi ancora più importante dei concetti sono le relazioni tra questi concetti non esiste nessun sistema informativo che non sia da buttare che tratti dati o informazioni di un solo tipo solo persone non serve a niente queste persone faranno delle cose se hai un sito di incontri allora avrò un altro concetto che è l'appuntamento avrò l'altro concetto che è se la cosa è andata a buon fine o no magari anche quando si è pagato cioè c'è una serie di concetti tra di loro una serie di concetti tutti importanti ai fini del dominio applicativo cioè per costruire quel servizio quel sistema che sono poi collegati tra di loro cioè prendiamo il concetto pagamento e il concetto pagamento è associato alla persona lui mi ha pagato sì no mi ha pagato tutto solo in parte oppure associato all'incontro paghi a gettone ogni volta che vai allora il fatto che il pagamento sia un modello ad abbonamento per cui pago un tanto al mese e poi vengo oppure sia a prestazione cioè ogni volta che vado pago un tot fa sì che il concetto di pagamento venga messo in relazione o con persona o con appuntamento e quindi in qualche modo il funzionamento della parte di mondo che stiamo descrivendo che vorremmo gestire con il sistema informativo le regole di funzionamento le rappresentiamo soprattutto attraverso le relazioni tra i vari concetti questa è la parte forse più importante perché come si dice la semantica sta nelle relazioni cioè i concetti da soli sono sempre giusti quando cominci a collegare tra di loro cominci a capire cosa fa questo sistema cos'è questo sistema davvero è anche difficile e ve lo dico già subito che siamo la prima settimana perché è un errore che succede molto spesso nei compiti di confondere quella che è una relazione tra concetti dalle operazioni che faccio sui concetti stessi ve lo lascio così come frase quando poi facciamo un esempio vi faccio vedere qual è l'errore in cui molti cadono però lo metto lì come punto di avvertenza è più difficile trovare le relazioni che i concetti in generale dopo di che c'era scritto nell'esale precedente i principali concetti di tipo astratto cosa vuol dire? vuol dire che ragioniamo in termini di classi in termini di insiemi vi piace di più parlare di insiemi? matematici cioè una definizione astratta la chiamo concetto la chiamo classe la chiamo insieme è sempre la stessa cosa per quanto ci concerne qui mi trovo meglio chiamare la classe perché poi è il linguaggio che dà anche UML che mi dà una definizione astratta di un insieme di elementi concreti che poi dovranno esistere quindi quando dico la classe persona e dico quali caratteristiche ha questa classe sto pensando che quelle sono le caratteristiche comuni a un insieme di tante entità concrete che si chiamano Antonio, Giuseppe, Francesco Angela, Maria che sono le istanze di questa classe o le singole occorrenze i singoli elementi i singoli oggetti questi sono tutti quasi sinonimi nel nostro contesto un livello concreto in cui vedi le singole i singoli elementi i singoli oggetti le singole istanze di una classe astratta di un'entità astratta di un concetto astratto di un tipo di un insieme di una categoria di elementi quindi noi la modellazione la facciamo a livello astratto ma ci serve per poter descrivere le caratteristiche degli elementi concreti che sono i veri dati su cui il sistema informativo lavorerà quindi il sistema informativo è un'anagrafe che contiene i dati di un milione di persone queste sono tutte persone diverse sono tutte istanze diverse di un'unica classe perché condividono tutti le stesse caratteristiche sono espressioni concrete diverse dello stesso concetto generale questo è uno sforzo che dobbiamo fare anche nella modellazione cioè io disegno qua ma penso qua quando disegno un concetto devo almeno in mente mia vedermi tante formichine dentro che sono tutte le singole istanze di quel concetto alcune volte è più facile perché ho un concetto sì che è astratto ma facile da concretizzare tipo persona se fosse un concetto un tantino più astratto come pagamento che abbiamo detto prima non corrisponde più a un oggetto fisico allora io l'esercizio che faccio per aiutarmi è immaginarmi sempre un foglio di carta su cui ci siano scritte le informazioni collegate a quella cosa astratta però ovviamente questo negli esempi lo vedremo meglio quindi quella che noi chiamiamo classe adesso usiamo sposiamo la definizione classe che è quella di UML anche se è abbastanza intercambiabile con le altre rappresenta un insieme quindi è il modello rappresentativo di un insieme di oggetti i quali abbiano tutti delle proprietà comuni ma non siano identici proprietà comuni vuol dire tutti noi abbiamo un nome tutti noi abbiamo una data di nascita questo ci fa simili ci fa appartenere alla stessa categoria di termiamoci pure oggetti non ci offendiamo di oggetti o di istanze che è la categoria delle persone apparteniamo a quella categoria perché abbiamo le stesse caratteristiche perché siamo descrivibili con le stesse caratteristiche anche un gatto ha una data di nascita e un nome quindi sarebbe descrivibile come persona certo dipende da come lo definiamo le caratteristiche dipende da come definiamo i concetti chiaramente lavoriamo in un certo dominio diamo delle caratteristiche che poi magari si applicano anche più ampiamente rispetto a quanto pensavamo possono essere appunto oggetti concreti quelli che cerchiamo potremmo di rappresentare tipo le sedie di questa aula sono tante ma sono tutte uguali potremmo identificare dalla loro posizione dove è messa riga colonna la fila e la posizione in modo che il servizio di manutenzione se si rompe una sedia sappia qual è sappia qual è la può identificare sono tutti oggetti distinti quando sono oggetti fisici è facile tutto sommato rappresentarli possono essere però dei concetti che rappresentano dei fatti delle informazioni facevo prima l'esempio del pagamento l'iscrizione il fatto che voi siete iscritti a questo corso non è una cosa materiale non è che l'iscrizione è qua la posso spostarla un po' più in là perché mi dà fastidio è un fatto è un'informazione ma non è un oggetto fisico e quindi un pochino più difficile è già a strato di suo ma l'iscrizione che è un concetto a strato di suo la sua iscrizione la sua la sua la sua sono diverse sono oggetti non fisici diversi ma appartengono tutti alla stessa classe del iscrizione detta così e poi è monca perché è iscrizione di chi? di uno studente a cosa? a un corso ma queste sono le relazioni per questo sono importanti le relazioni perché dare una classe senza dire a che cosa è collegata non spiega cosa fa no? se comincio a dire a che cosa è collegata si capisce un po' meglio non riesco a estrarre quella frase criptica che ho detto prima la semantica nelle relazioni solo quando vedo come è collegata capisco effettivamente a cosa serve qui fa vedere ad esempio alcuni esempi se io avessi un'applicazione commerciale quindi compra vendita è importante il dipartimento aziendale la città l'impiegato il concetto di acquisto e il concetto di vendita acquisto e vendita sono due cose immateriali sono concetti astratti un acquisto una vendita noi io mi aiuto immaginandomi un foglio come vi dicevo prima che sia il buono d'acquisto o l'ordine scusa l'ordine d'acquisto o il buono di vendita e allora mi chiedo questo è un foglio di carta quindi appartiene alla classe foglio di carta ma le informazioni che ci sono sopra rappresentano un ordine di acquisto ad esempio e allora queste informazioni quali sono quali ci dovrei scrivere sopra affinché il buono d'acquisto sia completo mi aiuto con l'analogia del foglio di carta e poi a un certo punto faccio sparire il foglio di carta e ciò che rimane sono i dati sono le informazioni mentalmente ovviamente questo processo se ci aiuta a lavorare con concetti astratti di solito proprio a livello pratico quello che si cerca di fare usare per le classi dei sostantivi singolari ok quindi non persone ma persona la classe persona che è fatta dentro di tante istanze che sono singole persone per comodità si usa il singolare ci diamo delle convenzioni tanto per non impazzire per non prendere prendere delle cose più complicate di quanto non servono e ci aiuta poi anche a ragionare sulle relazioni in realtà quindi nonostante io abbia una classe che si chiama persona al singolare quella è una classe un insieme e dentro ci sono le formichine tutte le singole istanze di quella persona di quella persona ecco in UML lo rappresento così una classe viene rappresentata con un rettangolo che può avere tre scomparti due useremo uno no qualcuno di UML qualcuno di voi l'ha già visto quindi sa già cosa aspettarsi nello scomparto più in alto c'è il nome il nome della classe gli altri due scomparti servono per gli attributi per i metodi se parliamo linguaggi di programmazione cioè i dati associati a quel concetto e noi ovviamente li dovremmo descrivere fanno parte del modello concettuale l'ultimo scomparto invece è per i metodi cioè nel caso in cui quello fosse un oggetto quali sono le operazioni che posso chiedere a quell'oggetto realmente in fase di modellazione concettuale questo terzo scomparto non serve non ha senso è che lo stesso tipo di diagramma si usa sia in fase di modellazione astratta sia in fase poi di progettazione del sistema e quindi si riusa la stessa notazione quindi a volte il terzo scomparto visto che è sempre vuoto a volte non lo disegniamo neppure questi sono i nomi dei concetti principali poi man mano che si va avanti magari se ne scoprono degli altri o si devono ritoccare questi quindi abbiamo l'impiegato abbiamo la città abbiamo la vendita abbiamo il dipartimento come esempi queste classi sono rappresentative di un insieme di oggetti ok di elementi della classe di istanze della classe quindi oggetto elemento istanza è tutta la stessa parola quell'oggetto specifico che è istanza della classe può essere in funzione di che cos'è la classe o un oggetto concreto fisico oppure ancora sempre un oggetto astratto ma individuale è distinto dagli altri oggetti dello stesso tipo la mia classe vendita non c'è un oggetto fisico che sia la vendita c'è l'oggetto venduto è un'altra cosa rispetto alla vendita però se vendiamo delle cose ogni vendita è diversa da un'altra perché ciascuna sarà relativa ad un bene diverso in una data diversa regolata da un pagamento diverso diciamo così vendita quindi mandata a un cliente diverso sono tutte cose intangibili ma distinte ciascuna ha la sua individualità è un'individualità perché i dati che le rappresentano sono diversi se io avessi due vendite in cui tutti i dati che le rappresentano sono uguali o è la stessa vendita oppure ho dimenticato dei dati importanti quindi gli oggetti le istanze concrete magari non fisiche ma concrete individuali sono innanzitutto rappresentate appunto da un'identità propria deve essere possibile date due vendite le informazioni relative a due operazioni di vendita e abbreviando due vendite dire se sono la stessa o no semplicemente guardandole date due persone dire se sono la stessa persona o no semplicemente guardando i dati associati ad essi quindi la prima caratteristica è che la modellazione deve permettere l'identificazione degli elementi se non so distinguere un elemento da un altro non serve a niente modellarli avrei un mucchio unico in cui non so neanche dire quanti sono non lo so sono 100 ma magari sono tutti 100 volte della stessa persona poi una volta che ho un meccanismo per identificare un elemento e poi per questo a volte si usano dei codici convenzionali voi avete voi pensate di avere un nome un cognome un'identità propria invece no voi avete un numero di matricola voi siete il vostro numero di matricola nel senso che vi identifica nel sistema informativo della didattica siete identificati attraverso il numero di matricola e infatti ci sono delle storture mostruose perché quando vi matricolate alla magistrale vi cambia il numero di matricola per il sistema informativo siete persone diverse da cui ad esempio è impossibile andare a risalire la vostra carriera precedente perché sono due identità distinte vi sentite un pochino dissociati il sistema informativo vi vede così quindi oltre alla possibilità di identificare gli elementi attraverso qualche caratteristica che o è una caratteristica naturale già esistente oppure una caratteristica aggiuntiva il numero di matricola ve l'hanno appiccicati ve l'hanno appiccicato perdon quando siete entrati non al Politecnico quando siete entrati nel sistema informativo del Politecnico allora lì vi hanno marchiati e vi hanno dato questo identificatore questo numero che poi vi ha accompagnati e serve è strumentale al riconoscimento di identificazione all'interno di quel sistema informativo numero di serie numero di matricola codici codice univoco codici a barre tutto questo mondo che ce lo troviamo ovunque il numero dell'aula questa è l'aula 16 perché è 16? è perché il suo identificativo è 16 e serve a distinguere dalle altre aule e dare un'identità poi quell'identità quell'identità vera noi la rappresentiamo attraverso un dato che spesso è un dato numerico o una stringa semplice è un palliativo l'identità vera dell'aula è il fatto che è qui in questo spazio in questo volume la posso vedere la posso toccare per semplicità le do un numero e da quel momento in avanti la rappresento sempre attraverso quel numero quindi è una comodità l'operazione che nelle basi dei dati facevamo cercando di riaffibbiare una chiave primaria semplice a ogni tabella che scopo aveva? beh uno non far arrabbiare il database ma a monte essere in grado di distinguere le varie righe della tabella sapere se due righe rappresentano stesso oggetto oppure no ma poi la chiave primaria non basta cioè dell'aula 16 io devo dire quanti posti ha devo dire dove è messa in che posto si trova quante uscite di sicurezza ha e una serie di informazioni se c'è il videoproiettore o no se c'è il microfono o no e cose del genere quindi ogni oggetto ha anche una serie di attributi o di dati o di informazioni di proprietà che lo descrivono meglio non lo identificano nel senso che se nell'aula 16 togliete una sedia rimane sempre l'aula 16 è una sua proprietà che è cambiata se qualcuno di voi si tinge i capelli l'amoro diventa biondo ma sei sempre tu non ti cambiamo il numero di matricola a me sono diventati grigi ma non ho neanche cambiato la foto sul badge del Politecnico quindi rimani sempre tu ma il tu è descritto non solamente dalla tua matricola ma da una serie di altre informazioni pertinenti alcune probabilmente immutabili tipo il nome e cognome non me lo sto a cambiare altre invece variabili sono tutti li chiamiamo attributi o proprietà dell'oggetto ovviamente tutti gli oggetti della stessa classe avranno le stesse tipologie di attributi avranno le stesse tipologie di proprietà quindi tutti coloro che sono iscritti al Politecnico con una matricola avranno il nome il cognome un corso di laurea a cui sono iscritti tutti indistintamente è la caratteristica di essere studente di essere rappresentato come studente la classe studente ha un corso di laurea di iscrizione attenzione che questi attributi sono attributi li dobbiamo pensare identificare come attributi dell'oggetto perché quando facciamo l'esempio dell'aula 16 non ho detto nell'aula 16 c'è questo corso perché non è una caratteristica dell'aula il fatto che ci sia sistemi informativi dentro e il fatto che ci sia sistemi informativi dentro quest'aula è una relazione tra sistemi informativi e aula 16 tra un corso e un'aula infatti usiamo dei verbi per rappresentarlo il corso si tiene nell'aula ma l'aula non è l'aula di sistemi informativi qui non funziona così il corso se intendiamo come classe la descrizione di un'aula tra gli attributi di questa classe non c'è il corso se ci fosse staremmo pensando un modello alla scuola media dove ogni classe ogni corso aveva la sua aula quindi in quell'aula c'era quel corso c'era quella classe la si chiamava classe la seconda C mentre qui essendo più dinamico il corso che si tiene in un'aula non è una proprietà dell'aula così come la sedia su cui siete seduti non è una proprietà della vostra persona o di parte della vostra persona su cui siete appoggiati se vogliamo una relazione transitoria adesso sono qui domani potrei essere lì non fa parte di me la cadrega su cui sono seduto quindi anche in questo esercizio dovremmo sempre chiederci ma questa informazione è pertinente a quell'oggetto anche se fosse da solo o è pertinente a quell'oggetto in quel contesto mentre sei seduto mentre si tiene il corso perché se è la seconda probabilmente non è una proprietà solo dell'oggetto ma una proprietà di quell'oggetto quando è in relazione con un altro e allora la descriveremo molto più correttamente come relazione gli ultimi due punti che in teoria possono competere la descrizione di un oggetto sono le operazioni i messaggi ma noi non li guardiamo perché non intervengono non intervengono nella modellazione concettuale ma solamente in quella di progetto in UML la rappresentazione degli oggetti può essere fatta in questo modo dico può essere fatta perché poi molto spesso per ragione di spazio non si fa un rettangolo anche qui col bordo fine guardate le classi hanno il bordo spesso e le istanze hanno il bordo fine a volte le classi hanno il bordo doppio tanto per renderlo più evidente e poi c'è una rappresentazione che dentro il rettangolo dice il tipo di classe a cui l'oggetto appartiene e un nome un identificatore un nome di comodo per rappresentare quell'oggetto quindi la città che si chiama Torino o che rappresento quel nome Torino l'impiegato che si chiama John Smith quindi nome dell'istanza concreta due punti nome della classe è un po' come quando scrivete in linguaggio di programmazione definite tre variabili tutte di tipo stringa allora stringa la classe è la stessa ma le variabili hanno nomi diversi e sono distinti tra di loro quindi questa indica il fatto che esiste una classe dipartimento e il dipartimento di automatica informatica è un dipartimento di che tipo è è un dipartimento e quindi le sue informazioni i suoi dati saranno quelli che sono definiti a livello di classe io in un certo senso quando facciamo il modello concettuale le istanze di dati non le rappresentiamo perché quando io progetto un sistema non so ancora quali dati ci finiranno dentro per carità se ho una classe che sono i giorni della settimana lo so già vanno da lunedì a domenica ma se ho una classe che sono persone non so ancora oggi quali saranno le persone che saranno registrate nel sistema informativo che andrà in produzione tra un anno quindi non fanno parte del modello li usiamo per aiutarci a validare a comprendere il modello strato perché poi alla fine il modello strato funziona se è in grado di rappresentare bene nel modo giusto le istanze concrete quindi ci obblighiamo a fare degli esercizi disegnandoli o anche solo immaginandoli pensando delle formichine le ho chiamate prima delle istanze concrete delle varie classi e vedere come sono in relazione dopodiché dicevamo gli ingredienti sono tre classe attributi e relazioni in UML usano un termine più generico che si chiama associazione un'associazione è leggo la definizione un collegamento logico tra due classi cioè due classi sono collegate tra di loro per un motivo questo intendo con logico logico non fisico sicuramente perché siamo nel modello strato ma c'è un motivo per cui queste due classi sono in relazione sono in associazione una con l'altra queste associazioni hanno anche loro una identità esistono vivono gli possiamo anche dare un nome ad esempio prima parlavamo di iscrizione che è una relazione un'associazione tra studente e corso non è un'entità a se stante non posso parlare di un'iscrizione se non c'è uno studente se non c'è un corso prima dicevamo seduto sulla sedia quindi seduto su è un'associazione tra persona e sedia associazione che ha certe caratteristiche nel senso che ad esempio una persona può essere o non essere seduta su una sedia magari è in piedi magari è andato fuori perché oggi fa bello quindi un'associazione di carattere opzionale per la persona ma è anche opzionale per la sedia perché possono esserci delle sedie tipicamente quelle della prima fila su cui non c'è seduto nessuno e poi è anche vincolata ad esempio al fatto che normalmente su una sedia c'è seduta al massimo una persona e una persona dimensioni permettendo è seduta su una sedia sola non su due o tre quindi un'associazione descrive un motivo per cui due istanze di due classi sono collegate quindi collega la persona tizio con la sedia numero tre ma in realtà noi lo descriviamo dicendo che tra persona e sedia esiste un'associazione che chiamiamo è seduto persona è seduta su sedia io definisco una relazione tra le classi sapendo che poi le classi sono fatte di istanze e questa relazione andrà poi applicata alle coppie di istanze di un'istanza di una classe con un'istanza dell'altra classe quindi anche qui lo sforzo che devo fare di astrazione è pensare in generale alle relazioni tra le classi quando disegno una relazione che sarà fatta un tratto tra le due classi in realtà sto dicendo che tra tutte le possibili istanze di una classe e tutte le possibili istanze dell'altra classe si può instaurare questo tipo di relazione si può o si deve a seconda delle caratteristiche della relazione stessa quindi facendo portando avanti l'esempio può esserci una relazione tra città e impiegato e questa relazione può essere la residenza l'impiegato è residente in una città le relazioni sono tutte astratte sono tutti concetti astratti e non c'è mai l'oggetto fisico relazione cioè l'oggetto fisico impiegato l'oggetto fisico città dal punto di vista logico esiste la relazione che l'impiegato appartiene alla città è residente nella città così come il concetto di esame può essere associato la coppia è una relazione che intercorre tra lo studente e il corso quando dici vado a dare un esame c'è uno studente che va e va a dare un esame specifico quindi tra l'istanza di studente e l'istanza di corso può avvenire la prova d'esame poi questa prova d'esame avrà anche a sua volta delle informazioni associate tipo la data tipo il voto o qualcosa del genere quindi quando noi diciamo che lo studente dà un esame stiamo descrivendo una relazione modellando una relazione tra la classe studente e la classe corso lo studente sostiene l'esame del corso ma poi ragionando in termini semistici la classe studente è fatta di tanti studenti specifici e la classe corso è fatta di tanti corsi specifici allora la relazione astratta che noi abbiamo definito studente dà esame in un corso nella pratica significa che questo studente qui ha dato l'esame in questo corso qui poi l'ha passato non l'ho passato non lo so e questo studente qui ha dato l'esame di questo corso qui e così via questo è un esempio di una relazione che da come si vede dall'esempio non ha particolari vincoli nel senso che possono esistere studenti che hanno dato nessun esame e quindi nessun corso studenti che hanno dato uno o più di uno come questo signore qua sotto e anche dal lato dei corsi vale lo stesso ragionamento possono esserci corsi in cui nessuno ha ancora dato l'esame corsi in cui è stato dato un esame o corsi in cui sono stati dati più esami da parte di studenti diversi quindi in questo modo parliamo di una relazione libera una relazione NN poi vedremo le varie tipologie possono esistere invece dei casi in cui ci possono essere dei vincoli maggiori su come si compone la relazione quindi nella pratica la relazione nel sistema informativo dovrà tenere traccia di tutti questi segmenti di tutte queste frecce deve sapere chi ha dato l'esame o no se no te lo fa ridare ok io in fase di modellazione astratta devo immaginarmi questa situazione ma la descrivo in modo molto più sintetico dicendo esiste una associazione tra classe e corso e questa situazione si chiama esame la descrivo a livello astratto ma so che questa descrizione astratta significa che gli oggetti concreti saranno poi collegati voglio poi vederli collegati dal punto di vista grafico come la rappresento questa cosa la rappresento con delle segmenti o delle spezzate che collegano le classi quindi nel primo caso c'è una associazione in cui lo studente frequenta un corso non è quella esame ma è quella frequenta poi ci sarà anche quell'esame studente frequenta corso oppure impiegato residente in una città oppure l'impiegato lavora in una città che è diverso dall'essere residente quella città lì quindi qui vedete che le relazioni tra una coppia di classi in realtà possono essere anche più di una e rappresentano informazioni diverse rappresentano tratti di informazioni diverse cos'è questo triangolo è una freccia che serve per orientare il verso di lettura dell'associazione qui si legge seguo la freccia impiegato lavora in città e non città lavora in impiegato che non avrebbe tanto senso a volte è talmente ovvio in che verso vada a letto che la freccia si può anche non mettere come esempio l'impiegato è residente in una città il contrario non ha senso in realtà in tutti questi tre casi la freccia sarebbe diciamo così non necessaria perché non c'è il rischio di leggere la contraria che un corso frequenti uno studente però per chiarezza costa abbastanza poco metterla viene naturale queste relazioni queste associazioni mettiamo in modo indifferente identificarle con dei verbi così come le classi le abbiamo battezzate con dei sostantivi la relazione spesso viene comodo viene bene battezzarla con un verbo così si descrive lo studente frequenta il corso hai detto una frase in italiano ma in realtà non hai fatto altro che leggere questo diagramma è un verbo è proprio quell'elemento del linguaggio che mette in relazione un soggetto con un oggetto o con un complemento indiretto come volete ma mette sempre in relazione qualcuno da cui parte l'azione e qualche cos'altro verso cui l'azione si esplica e quindi viene bene anche la freccia è sempre astratto ma un pochino più concreto da leggere che non una associazione descritta qua come sostantivo la residenza infatti non ho messo una freccia perché non è che si può leggere non si può comporre una frase l'informazione è la stessa ma un pochino più difficile da leggere se invece usiamo i verbi vedete che scorre un po' meglio quindi solo per comodità nostra di rappresentazione di lettura e di diminuire il rischio di errore ah poi ci sono anche delle relazioni un po' più strane ad esempio queste sono relazioni riflessive in cui la destinazione è la stessa della partenza ricordatevi delle formichine io non ho detto che uno studente è amico di se stesso di solito lo sono ma non tutti i giorni qui c'è scritto che può esistere una relazione che chiamo amico tra un'istanza della classe studente e un'istanza della classe studente mi veniva da mettere un'altra istanza ma non ho detto che sia un'altra quindi non posso dirla quindi è come se io avessi gli studenti poi ne faccio una fotocopia che sono di nuovo sempre loro ma una fotocopia che si aggiorna in tempo reale e poi traccio delle relazioni di amicizia tra l'uno e l'altro non vuol dire né che ciascuno studente è amico di se stesso né che tutti gli studenti sono amici di tutti quello è un insieme un insieme degli studenti una relazione definita su un insieme su una classe significa che i singoli elementi di quell'insieme le singole istanze di quella classe possono essere collegati attraverso quella relazione così come l'ho descritta sembra una relazione simmetrica non ci sono frecce quindi A è amico di B si può anche leggere come B è amico di A no? alla Facebook tanto per capirci non puoi essere amico di un altro se l'altro non ha accettato di essere amico tuo qualunque cosa questo significhi esistono anche delle relazioni riflessive ma non simmetriche come questa qui abbiamo una classe impiegati impiegato che rappresenta gli impiegati di un'azienda è una relazione di supervisione tizio supervisiona caio e questa non è per nulla invertibile se io sono il tuo capo tu non sei il mio capo guardati bene dal pensarlo quindi in questo caso sono relazioni che hanno un verso non non invertibile quindi se tizio è il supervisore di caio non posso assolutamente dire che caio sia il supervisore di tizio quindi la relazione deve essere ben orientata e ci metto la freccia per forza e le due estremità della relazione quella di partenza e quella di arrivo il supervisore e il superveduto dice sottomesso credo si dica ancora in italiano non sottoposto scusate bellissimo termine che trovate se andate negli uffici pubblici parlano così le due estremità della relazione per spiegarci meglio le possiamo dare dei nomi possiamo battezzare le estremità della relazione quindi io dico che tizio supervisiona caio che sono entrambi impiegati tizio con il ruolo di manager e caio con il ruolo di impiegato quindi le singole istanze partecipano alle situazioni con un ruolo diverso a seconda che siano a sinistra o a destra della freccia e per chiarire meglio qui siamo sempre nella modellazione stiamo facendo dei disegnini sintetici che dicano tante cose che spieghino molto in modo non ambiguo e quindi chiariamo qual è il ruolo dell'estremità quando il nome della relazione non basta a renderlo chiaro aiuta molto dare delle etichette ai due estremi quindi diremo che un impiegato manager supervisione un impiegato impiegato un altro modo veloce di dirlo modo completo sarebbe un istanza un impiegato ossia un istanza da classe impiegato con il ruolo di manager supervisiona un altro impiegato di solito un altro con il ruolo di impiegato spesso di supervisionato quello che abbiamo detto sulle classi lo ripetiamo ancora una volta si applica alle istanze quindi quando dicevamo che lo studente frequenta il corso significa che in realtà lo studente uno frequenterà il corso uno lo studente tre frequenterà il corso due e così via per una certa serie di coppie studente corso queste sono le se vogliamo occorrenze le istanze dell'associazione una classe ha come istanze degli oggetti l'altra classe degli altri oggetti l'associazione ha come istanze dei collegamenti dei link tra oggetti tra copie di oggetti e l'informazione sta nel sapere chi è collegato con chi il concetto si esprime dicendo chi può essere collegato con chi cioè qual è la relazione logica che avviene tra le due classi ma poi la vera informazione ce l'ho quando so chi è iscritto a questo corso in quanto sapere che gli studenti si possono iscrivere ai corsi ok ma poi l'informazione vera che il sistema informativo gestirà è quali studenti sono iscritti a quali corsi se qualcuno va male si fanno le cose in segreteria perché l'informazione non è giusta ovviamente a livello di distanza l'informazione è sempre dinamica perché domani uno si iscrive si cancella prende un corso lo toglie mentre invece la reazione generale che studente frequenta corso quella è immutabile nei secoli se non cambia il modello di università da quello che dicevamo prima i dati sopravvivono a lungo c'è un sistema informativo che è basato su questa relazione qui ma cent'anni fa era già così e tra cent'anni non lo so se ci saremo ancora come università ma probabilmente sarà ancora una cosa del genere ok aggiungiamo elementi poi ancora un attimo poi facciamo una pausa e qualche esempio dopo cerchiamo di mettere ancora qualche ingrediente in più allora dicevamo che le classi hanno degli attributi dobbiamo identificare per le classi gli attributi ossia le informazioni i dati da associare a tutte le istanze degli oggetti di quella classe cosa sono questi attributi beh sono una serie di valori e di ciascuno di questi valori di solito rappresento il tipo di dato e gli do un nome quindi gli attributi di una classe non sono altro che un elenco di coppie nome valore dove il nome è il nome che do io che decido io che sia possibilmente significativo e il valore è il tipo il tipo di dato che questo può assumere quindi ad esempio il cognome è una stringa la matricola è un numero l'identificativo matricola è un numero il salario è espresso in unità currency in unità di valuta se non è euro dollari o altro quindi quando descrivo le proprietà di una classe elenco i dati che voglio registrare a proposito delle istanze di quella classe e per ciascun dato dico di che tipo è che tipo di valore può avere torniamo alla valore 16 quali proprietà avrà l'aula 16 o in generale quali proprietà ha la classe aula quali sono le proprietà di tutte le istanze della classe aula ossia di tutte le aule vabbè ci sarà una prima proprietà che è il nome che è una stringa dice 16 è un numero e vabbè ma 16a no no la 16a non c'è ma la 15a c'è quindi è una stringa non è un numero nome stringa dell'aula capienza numero quindi numero capienza sono il numero di posti poi potrei dire videoproiettore boolean sì no c'è o non c'è potrei dire la posizione dove si trova e allora sono coordinate il tipo di dato sono coordinate l'onditudine l'altitudine relative al centro del Politecnico oppure relative al sistema cartesiano del GPS non cartesiano perdono il sistema geografico poi dipende da che punto di vista sto costruendo il sistema informativo perché non è che posso chiedermi quali sono gli attributi dell'aula è il colore dipinto di bianco se sono nella manutenzione mi interessa saperlo la potenza installata quanti kilowatt sostiene quel quadro lì le informazioni sono tantissime a seconda ovviamente dello scopo per cui rappresento l'informazione per quello che dicevamo che le classi le modello a partire dall'analisi dei requisiti quindi avrò una serie di informazioni che mi interessano in questo sistema informativo avrò poi degli oggetti di questa classe e per ciascuna di queste informazioni mi chiederò di che tipo è e gli darò un nome il tipo dovremo fare in modo che sia quasi sempre un tipo semplice se no sto sbagliando qualcosa vi faccio un esempio se ne modellare il corso corso di sistemi informativi dicessi che un attributo di quel corso sono i studenti iscritti e il tipo di dati è una lista o un array di studenti sto sbagliando perché sto mettendo dentro il corso l'elenco di studenti un'informazione che in realtà non è del corso sto svilendo il concetto di studente sto dicendo il tuo studente non è altro che un dato scritto dentro un corso no, è un concetto a sé stante quando vi viene voglia quando starete modellando facendo esercizi di dire ma questo qui in realtà è un elenco è una lista ha più valori allora è un sintomo un campanello d'allarme del tipo che avete dimenticato un concetto infatti abbiamo visto prima che il modo giusto di modellarlo è che il studente da una parte il corso dall'altra e poi c'è una relazione il studente frequenta il corso e quindi non c'è scritto dentro lo studente non ci sono scritti i corsi che segue dentro un corso non c'è scritto l'elenco degli studenti che lo frequentano ciascuno vive di vita sua ma poi sono legati da una relazione dobbiamo sempre sforzarci di vedere le cose in senso un pochino più astratto ecco in pratica cosa dove le rappresentiamo come rappresentiamo questi attributi è nella seconda riga della scatola classe in cui si dice beh lo studente è identificato da una matricola di tipo intero e ha un nome facciamo finta che non ci sia il cognome di tipo stringa solo per ragione di spazio un corso è identificato da un codice un anno di erogazione questo int fa un po' ridere perché dice ma in che anno è questo corso noi lo chiamiamo in realtà anno accademico 2014-2015 che è l'ultima volta che ho guardato 2014-2015 non è un numero intero ma sono due e invece il sistema informativo anche quello del Politecnico lo rappresenta con un numero solo mi sembra che questo per loro sia l'anno 2015 hanno dovuto scegliere loro il primo o il secondo per aiutare di portarseli avanti ogni volta tutti e due quindi in qualche modo si fanno anche delle semplificazioni tra il dato che rappresento e il dato che visualizzo quindi ho bisogno di identificatore che mi rappresenti l'anno se poi l'anno accademico e a cavallo tra due anni solari decido mi do una convenzione decido come dovrei essere rappresentato non avrebbe senso che io mettessi anno iniziale e anno finale del corso perché un corso del tipo 2008-2018 non c'è un corso che lunga per fortuna bosta che dure dieci anni e idem qui abbiamo popolato di attributi anche la descrizione dell'impiegato e la descrizione della città qui ci sono alcuni errori o punti di attenzione che vengono messi in evidenza nelle slide ad esempio è corretto secondo voi rappresentare l'età di un impiegato allora l'impiegato ha sicuramente un'età è un dato suo una sua proprietà quindi ma è il modo più comodo? no sarebbe molto più comodo dal punto di vista del modello concettuale rappresentare cosa? la data di nascita se mi interessa l'età e poi l'età me la calcolo tutte le volte che mi serve perché se io scrivo lì dentro l'età che so 25 come i miei anni poi ogni volta che passa arriva il giorno del compleanno ho bisogno di qualcuno che vada ad aggiornare quel numero infatti a me si sono dimenticati quindi il dato primario in questo caso dell'età è la data di nascita da cui poi si possono derivare tanti altri dati quali il giorno del compleanno l'età corrente eccetera che sono tutti ricavabili facilmente se conosco la data di nascita ma il viceversa non è vero e quindi cerchiamo sempre di dare una rappresentazione che dia la massima quantità di informazione col minimo di manutenzione col minimo sforzo di manutenzione idem la città dice che il numero di abitanti che è un numero intero questo questo dipende e questo tutti i giorni cambia io dovrei andare ogni giorno a telefonare in anagrafe dicendo quanti sono i nati i morti gli immigrati e gli emigrati sono poi quattro motivi per modificare il numero di abitanti di una città e nel mio sistema informativo pensate in segreteria al politecnico in quante città diverse siete nati voi o siete residenti tutti i giorni devo andare a telefonare per aggiornare quel numerino allora i casi sono tre o davvero mi serve e allora lo faccio perché è un dato che mi serve e mi serve tenere aggiornato allora andiamo a ragionare sui requisiti mi serve secondo caso non mi serve l'ho messo lì perché faceva figo cancelliamolo finché siamo in tempo perché se no mi serve davvero se ne posso fare a meno lasciamo stare visto che dà dei problemi problemi di manutenzione non concettualmente è tutto giusto terzo caso mi serve davvero e vale la pena di rappresentarlo in modo più strutturato tipo che ne so portarmi in casa un pezzo di anagrafe delle città avere l'elenco delle persone allora se io avessi se il mio sistema informativo fosse più ampio ovviamente avessi l'anagrafe della città per sapere quanti sono gli abitanti basta contarli e quindi li conto ogni volta che mi serve quindi ottengo un dato derivato a partire da un dato primario che è la residenza dei singoli impiegati l'ultimo concetto poi vi lascio fare un po' di pausa è quello della molteplicità poi abbiamo con questa manciata di concetti abbiamo tutto il linguaggio che ci serve per costruire i diagrammi poi bisogna imparare a farlo la molteplicità rappresenta si rappresenta con dei numerini messi a fianco delle due estremità della relazione e rappresenta il numero di istanze di una classe che può essere messa in relazione con ciascuna istanza dell'altra classe è lo stesso che avete fatto a base dati uguale qui c'è scritto o delle auto o delle ruote le auto montano ruote e fin qua data una specifica auto quante ruote monta quell'auto e quali quindi immaginiamo di avere tante auto su un piazzale senza le ruote tante ruote dal gommista ciascuna con il suo numero di serie e diciamo su questa auto metto queste tre ruote o due o quattro non sicuramente dodici quindi data un'auto il numero di ruote che possono essere montate su questa macchina può essere zero uno due tre o quattro è sbagliato avere un modello in cui prendo un'auto e gli dico che su questa auto sono montate cinque ruote quella di scorta non conta perché non la mettono più oggi ma non è montata quindi per capire questo numero che c'è dal lato delle ruote mi metto dentro l'auto scelgo un'auto una specifica istanza di auto e mi chiedo quell'auto lì con quante istanze della classe ruota può essere messa in relazione al massimo quattro poi mi sposto dall'altra parte scelgo una ruota un'istanza della classe ruota e mi chiedo questa ruota su quante macchine auto può essere montata o non è montata o è montata su una macchina sola in quel momento e quindi lo rappresentiamo indicando il valore minimo e il valore massimo di molteplicità cioè di quanti partendo da un punto da un'istanza da un lato quante ne posso trovare dall'altra parte zero significa che potrei anche non trovare nessuno quindi il punto è isolato non partecipa alla relazione l'auto è senza ruote o la ruota non è montata in nessun'auto e poi puntini puntini valore massimo quindi qualunque vuol dire che ciascuna istanza di una delle due classi può partecipare nella relazione con un certo numero di istanze dell'altra classe e quest'altro numero di istanze è regolato da questo vincolo minimo e massimo il modo giusto di leggerli è dentro la macchina guardo le ruote e quindi mi dice quante ne ho dentro la ruota guardo la macchina e mi dice quante macchine ho perché a volte ci si confonde da che parte devo scrivere le cose c'era un altro esempio se non sbaglio ecco questi sono tutti i casi possibili di molteplicità che posso avere dall'uno e dall'altro lato della relazione tipicamente quando non ho nessun vincolo che qui è detto zero o più di zero quindi vuol dire c'è o non c'è e se ce n'è quante ne vuoi o si mette l'asterisco o non si mette niente oppure potremmo avere ad esempio il caso di una relazione opzionale zero uno cioè o c'è o non c'è ma se c'è non ce ne può essere più di uno oppure il caso generale minimo massimo a volte il massimo è infinito è limitato quindi abbiamo solamente il minimo spesso si usa uno punto punto asterisco da uno in poi vuol dire che quella relazione è obbligatoria devo averne almeno uno ma poi posso averne più di uno volendo oppure anche se è raro si può mettere un valore secco un certo numero spesso è uno questo numero esatto ma potrebbe anche essere sette dipende dal caso non tutte le combinazioni hanno senso nella realtà ha senso specificarle però il linguaggio appunto è molto semplice il valore minimo è zero di solito come allora nella pratica come valore minimo troviamo zero o uno che sta a significare che la relazione è obbligatoria o è facoltativa se è facoltativa metto zero se è obbligatoria metto uno come valore massimo di solito troviamo uno oppure asterisco uno vuol dire che la relazione se c'è è univoca e asterisco vuol dire che se c'è è molteplice può essere molteplice e quindi nella pratica abbiamo quattro casi che si usano spesso zero o uno relazione opzionale ma singola zero osterisco fai quel che vuoi opzionale eventualmente molteplice uno osterisco obbligatorie molteplice cosa mi manca? zero o uno? no l'ho già detto uno o uno giusto uno o uno vuol dire obbligatoria e univoca le relazioni uno o uno sono sempre sospette perché mi chiedo se io sono in relazione uno o uno con un'altra cosa se io e l'altra cosa in realtà non siamo la stessa ma questo lo vediamo poi negli esempi vi do un quarto d'ora di pausa poi facciamo gli esercizi grazie a tutti